ciao ragazzi siamo i fishing 360 siamo nicola matteo e siamo e oggi siamo a pescare al cerchio e come vedete come vedete come guardate vedete e niente questo è il nostro canale dove cercheremo di insegnare a pescare e dare consigli su quel poco che sappiamo e facciamo pesca un po di tutti i geni da mare laghi fiumi pozzanghere e niente noi lo prendiamo più come hobby che come sport basta iscrivetevi al nostro canale perché siamo bravi e belli e soprattutto mi raccomando tanti mi piace tanti iscritti buona pesca tutti siamo al cerchio precisamente alla foce del cerchio e siamo qui a pescare da stamattina alle 5 fino ad ora abbiamo preso due spiccolette e lui ha abboccato non si sa che cosa perché poi ha strappato ha smadonnato però era comunque un pesce di medio taglia era abbastanza buono da come tirava e le spiccolette le abbiamo ributtate perché erano piccoline invece siamo qui a pescare io con due canne lui anche idem e io una galla e l'altra la monterò ora a fondo e lui invece anche lui una galla e l'altra a fondo a fondo anche lui col pasturatore e niente tu vuoi aggiungere qualcosa al momento no a meno che non entri un bel pesce in canne si magari in diretta live farebbe molto piacere sì ecco anche perché almeno facciamo vedere le nostre abilità di pesca e nel nostro canale come abbiamo già spiegato prima come abbiamo già spiegato prima insegneremo le varie tecniche e daremo dei consigli daremo dei consigli sì ma vi faremo vedere varie cose avevamo la spigola e invece abbiamo preso un pesce un siluro un siluro ha preso nicola abbiamo pensato a un pesce gatto poi l'abbiamo visto meglio un siluro e non ha tirato un cazzo non tirava veramente un cazzo ora è meglio se lo lascio andare perché non voglio che muoia che siamo non so se avete presente niente ho preso un siluro guardate come swish preso dicevo con galleggiante praticamente quasi sul fondo si praticamente montatura molto la montatura è arrabattata questa qui così visto che ci siamo vi spiego anche come la montatura ho messo un galleggiante da un grammo l'ho fermato con i gommini poi nel nella lenza made ci ho messo dei piombini della stessa misura tutti quanti di quanto da 0,09 miligrammi grammi 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 e ne ho messe 55 e poi ci ho messo un amino con i baini e qui sbollano ancora quindi io non perdo altro tempo e metto altri baini per buttare altri cercare di pescare altre roba insomma cioè noi pescavamo spigole volevamo prendere le spigole no il siluri i siluri immagino se è come regolare quando vai in lago e meri attrote c'è lì il galleggiante tranquillo e il galleggiante tranquillo e la canna praticamente ti si piega di 180 gradi e ti accorgi che ti sei incagliato uno storione che ti pone davanti due scelte o svergi la montatura o svergi la canna oppure speri nel miracolo e lì ci sono i nostri due galleggianti uno giallo e ti abbocca lo storione lo tiri fuori e sei contento via bene per oggi ecco matteo che ha preso un siluro e è lì e ora appena lo tira fuori prendo il retino e penso sia un siluro quello dello stesso di prima si è un po più piccolo mi sa e ora ci sono in mezzo di tronchi non so se riusciamo ecco abbiamo preso più piccolo di prima sì 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 non lo mezzo smerdato aspetta un attimo c'è più tronchi che pesce insomma allora praticamente questo è il pesce di prima che questo però sorride è felice e non so se notate non si sa che cosa cosa è una spigolona bella la giornata di pesca è finita qui abbiamo preso un cassino di pesci non è vero un cazzo io ho un siluro te un altro siluro una spigoletta di un netto e mezzo poi abbiamo preso quelle cagatine che erano delle cagatine di spigolette sì 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 di spigolette li buttate purtroppo abbiamo abbiamo strappato entrambi su molto probabilmente due pesci abbastanza buoni io con la bolognese con amo forse troppo piccolo e nicola a fondo con amo ritrovato piegato io sto sudando anche l'anima io sto sudando anche l'anima e niente niente ci riteniamo comunque soddisfatti di questa e dai come come prima volta al cerchio al cerchio a cerchio ora probabilmente faremo un altro video ritorneremo e ritorneremo vincente a 100 mila like no no non esageriamo al primo iscritto al primo iscritto al canale faremo mi raccomando iscrivetevi perché vogliamo diventare alla grande vogliamo andare alla grande come con questo canale per poi fare più casino possibile chiunque ci voglia offendere sanno saranno ci sono i commenti sotto io vogliamo offrire a tutto andare offese a tutto spiano non offendete i genitori perché lì si va sul peso e vi cerchiamo la mamma ve la trombiamo e soprattutto io volevo fare un annuncio allora aspetta fermo mette la meglio ci sono anche al questo fogliettino sulla macchina nel parcheggio effettivamente l'ho parcheggiata cazzo di cane però insomma c'era comunque abbastanza spazio avremmo preso un posto e mezzo e comunque ci ha fatto piacere perché ci siamo sentiti considerati e niente ora c'è un'ambulanza e basta ma ci sarà una che si sarà sentita male non so e che dire iscrivetevi in tanti vogliamo parecchi iscritti al nostro canale la prossima volta faremo penso un video al lago dei pini si andremo al lago dei pini lì ci saranno storioni e carpe no trote no storioni e carpe pesca a fondo e a go go la seconda o terza volta ci siamo stati un annetto fa mi sembra ci era rivenuto a mente di andarci e vedremo insomma si è già un po che non ci si va lì di solito fanno anche gare a storioni e trote cascato un ciclista se posso ah l'ambulanza di prima era il ciclista se posso se posso dire una cosa sta bene perché è un ciclista e i miei ciclisti ora se volete offendere mi offendete ma i ciclisti non li posso vedere non li può vedere e comunque è questa perra di saggezza vi salutiamo bella ragazzi ciao da ciao e da fishing 360 alla prossima